Musica Io credo che una risposta sul futuro dei giovani di Napoli possa venire dal mare. Questa è la frase che si può leggere all'entrata della scuola vela a Mascalzone Latino, sita nel porto della bellissima città partenopea. Questa frase è stata pronunciata dall'ideatore e fondatore della scuola vela Vincenzo Onorato, quasi a rinnovare il suo amore per i bambini, specialmente quelli meno fortunati, che abitano nei quartieri più poveri della città. L'armatore infatti, nella sua attività imprenditoriale, dedica ai bambini le navi della flotta Mobilines, colorandole con accattivanti e divertenti immagini dei fumetti Lunay Tunes, personaggi tanto amati dai bambini ma anche dagli adulti. La scuola aveva nemmeno una passione. Anzi, la parca come è prima, poi sali fino sulla parca con la sassola, smagagni tutta l'acqua. Vai, cagli. Si dice? Scoti! 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 Di grande importanza nella realizzazione del progetto della scuola vela a Mascalzone Latino, la collaborazione istituzionale della Marina Militare Italiana, che ha messo a disposizione alcuni locali al molosiglio del porto di Napoli, proprio in prossimità del centro velico delle forze armate. Il caseggiato, dove assiede la scuola vela a Mascalzone Latino, è stato ristrutturato grazie al sostegno della fondazione Vodafone Italia. Riccardo è un mio sottore ed è molto robusto fisicamente. Riccardo ha un sottore molto grande. Antonietta è severa, però ci fa divertire pure lei. Riccardo è bravo pure lui, però non sta poco con lui. Poi c'è Antonietta, per me non è severa, e poi c'è Riccardo. Lo vedo tanto severa, Riccardo. Quando entriamo, ci cambiamo e faccio la palestra, e poi lo faccio la merenda e poi... Grazie. L'utilizziamo la scuola di una stazione latina, perché cadiamo il progetto, cadiamo i ragazzi dello sport, e vogliamo appunto affiancare il nostro marchio, il loro marchio, perché pensiamo che sia un progetto dell'allanguardia, che fa del bene, e di legato allo sport, che è il principio della nostra azienda. Siamo già stati disposti in passato del team Coppa America, ma riteniamo che anche quest'anno essere legati alla Scuola Vela sia un'opportunità molto importante, perché questi ragazzi stanno bene. La Scuola Vela Mascalzone Latino, per l'alto valore sociale ed educativo, ha ricevuto importanti riconoscimenti istituzionali, come l'alto patronato del Presidente della Repubblica, il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Gioventù e del Dicastero al lavoro e alle politiche sociali. è stata inoltre conferita dal CONI, alla Scuola Vela Mascalzone Latino, la medaglia d'oro al valore atletico, mentre il segretariato sociale della RAI segue tutti gli eventi significativi della Scuola Vela. La Scuola Vela Mascalzone Latino non è rivolta ai bambini ricchi e sazzi della Napoli Bene, ma quelli folli e affamati provenienti dai quartieri disagiati della città. La Scuola Vela Mascalzone Latino offre gratuitamente un'opportunità e una speranza a tanti ragazzi, indicando loro un percorso educativo in un luogo stabile e dignitoso, permettendogli di vivere il mare, praticando lo sport velico e altre attività marinare, stimolando lo spirito di squadra e il rispetto delle regole di una sana competizione. Per questo motivo serve uno sforzo di tutti per far crescere questa scuola, anche il tuo.